Purtroppo ricollegandoci anche ai fatti della Libia, questo è un governo e soprattutto Renzi ha le mani sporche di sangue, tanto in Libia quanto in Italia. Ha le mani sporche di sangue in Italia perché tifa per i delinquenti e libera i delinquenti. Sull'immigrazione è complice del terrorismo internazionale, non è vittima ma è complice del terrorismo internazionale. Non è solo, perché mentre dalla Libia arrivano le notizie che giungono, il Presidente della Repubblica si vanta del fatto che l'Italia sia all'avanguardia per quanto riguarda l'accoglienza degli immigrati. Questi o sono matti o sono complici. Terzim non datur. O sono matti o sono complici. Da Renzi a Mattarella. Speriamo che le notizie libiche siano infondate. È vergognoso che il governo non si degni di riferire in Parlamento che cosa sta succedendo e che cosa intende fare in Libia. che si leggano indiscrezioni sui giornali, la guerra non si fa per indiscrezioni sui giornali e se l'intervento militare dovrà essere che sia serio, spiegato, documentato e con un dopo preparato, siamo veramente allucinati.